L'estensione delle vaccinazioni e della campagna di vaccinazione alle fasce più giovani perché, come è noto, i vaccini oggi approvati da EMA e da AIFA hanno una limitazione anagrafica. Solo il vaccino Pfizer è utilizzabile dai 16 anni, tutti gli altri vaccini sono invece utilizzabili soltanto a partire dai 18 anni. Ad oggi, come è noto, quasi un terzo degli italiani ha avuto una prima dose somministrata e questo è un dato importante, positivo e incoraggiante, e in tutto siamo arrivati a 28 milioni e mezzo circa di dosi somministrate. Abbiamo protetto, come è noto, nel nostro piano in primis le fasce più deboli, i fragili, gli anziani, le persone che incontrando il virus potevano avere un rischio più alto. Oggi si pone con grande, io penso, attualità il tema di andare chiaramente anche alle altre generazioni. Nella fase che arriva abbiamo circa 20 milioni di dosi che saranno a disposizione del nostro Paese per il mese di giugno e questo ci può consentire, senz'altro, di estendere le vaccinazioni ad altre generazioni. Il nostro auspicio e anche le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 di maggio EMA possa dare l'ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. Questo sarebbe un fatto molto importante che ci consentirebbe, così come è già avvenuto negli Stati Uniti d'America, di allargare ad altre fasce di età per la nostra campagna di vaccinazione. Ci sono tra l'altro studi in corso anche per fasce generazionali ancora più giovani. Come la vostra interrogazione evidenzia, la vaccinazione per le fasce più giovani è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale soprattutto in vista della ripresa del prossimo anno scolastico. Il Governo è a lavoro col Commissario straordinario per costruire quindi un adeguamento del piano a questa disposizione che ci aspettiamo per la fine del mese da EMA che ci metta nelle condizioni anche di costruire un'informazione, una comunicazione che renda consapevoli le persone dentro un elemento che ormai penso sia di dominio comune nel nostro Paese, cioè che la campagna di vaccinazione è l'arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione così difficile. Grazie.